buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video finalmente zenith l'ha fatto proprio pochi giorni fa era la settimana scorsa rispetto a quella in cui vedete questo video io chiedevo a un mio amico che in realtà è un follower e amico di paolo cassoni anche che non fa orologi ma è un appassionato appunto mi parlavamo del cronomaster quel famoso cronomaster zenith degli anni 70 con base il primero e con un triplo calendario completo con fase luna quindi senza calendario annuale senza calendario perpetuo solo calendario completo e quello all'alloggio lì degli anni 90 secondo me era splendido splendido misure giuste prezzo giusto uno dei migliori al primero mai fatti e tra l'altro va via ancora ne hanno fatti tanti oltretutto ma va via ancora dei prezzi bassi per cui uno li dovrebbe approfittare io non voglio dire niente ma dovrebbe approfittare finché i prezzi stanno bassi e ora zenith esce con un triple calendar anzi con un cross zenith è il primo cronomaster original triple calendar che in realtà omaggia non il cronomaster degli anni 90 ma un prototipo fatto in solo 25 pezzi prima dell'uscita del primo al primero quello poi che vedremo sulle spada ma no il prototipo era molto più classico sembrava un a386 con il triplo calendario quindi hanno rifatto ma un prototipo e secondo me l'orologio è delle dimensioni giuste ed è veramente bello e significativo triple original triple calendar cronomaster andiamo a vedere subito di cosa si tratta bello orologio ma il prezzo dimenticavo nel 2012 era stato proposto un cal un cronomaster con calendario completo fase di luna ma era ma riuscito lo diciamo subito a fabio cappiello io e giorgio io e bruno chiedo scusa bruno bergamaschi ma anche ma anche stefano farina mi ricordo noi che avevamo preso lo zenith 38 noi lo dicevamo lo dicevamo lo dicemmo 42 mm erano troppi erano eccessivi era brutto quel calendario ne fecero pochi pezzi poi smisero adesso finalmente ci siamo andiamo a vedere di cosa si tratta ecco uno dei 25 esemplari del 69 dei prototipi questo con quadrante grigio era appunto un a386 con il calendario completo e senza i tre colori ecco i nuovi che sono praticamente identici c'è a sinistra la versione panda poi abbiamo una versione con quadrante grigio che rispecchia le esemplari che abbiamo visto in foto e abbiamo una versione green che è disponibile sono le boutique zenith intanto lo state vedendo questo orologio è appunto al calibro 3610 quindi non il 400 ma il 3610 per cui è il 3600 quindi con spirali in silicio e non mi ricordo cos'altro in silicio che ha la sfera dei secondi centrali cronografici che fa un giro in 10 secondi quindi poi a tutti i contatori che hanno funzioni diverse e quindi purtroppo è questo calibro il bracciale come avete visto gay frayer originale è stato sostituito con questo bracciale più importante più signorile sicuramente meno estivo e più pesante ma anche più elegante diciamolo francamente sono 13 mila 900 dollari per la versione braccialata 12 mila 900 per quella con cinturino in pelle devo di me averlo dimenticato all'inizio è 38 mm per 13 considerate che il crono normale è sui almeno quello che ho io che però aveva il calibro 400 è sui 11 questo sui 13 rimane comunque molto indossabile lo so già cosa starete pensando è caro si è caro è caro però dobbiamo anche dirci prima tutto una soddisfazione cioè il fatto che effettivamente stia qualche casa riprendendo a fare cronografi con calendario completo l'ho sempre fatto long in con il suo crono master era tempo che anche altri ci pensassero e voi sapete che poi nel 69 quel prototipo non fu prodotto ma poi il calendario completo si vide sulle spada su un qualcosa di più sportivo chissà perché con una cassa più appartenente alla space era diciamo ecco se vogliamo dirla tutta questo e dicevo c'è un bright link con calendario completo cronografo base b01 che però è circa sui 15 mila euro questo è a un calibro più prestigioso più significativo storicamente per me più bello e soprattutto non è 42 millimetri ma è un orologio da 38 millimetri questo cambia tutto il dato a un'estetica un'indossabilità senza pari però il prezzo è alto io continuo a dirlo gli zenith sono troppo cari oggi secondo me capisco la casa che cerca così di recuperare di riposizionarsi come era un tempo all'epoca appunto del primo al primo ma non è una cosa facile dopo gli anni che ci sono stati nataf la gestione dell'attuale CEO di rolex che ho conosciuto bene e adesso la lunga gestione di julien tornare a cui si deve questo orologio perché oggi poi entra in carica il nuovo il nuovo CEO di zenith che è benoit de klerk per sotto la supervisione di fredricarno perché il gruppo è stato tutto e le vmh è stato tutto riorganizzato quindi detto tutto questo del prezzo troppo alto vi ringrazio vi saluto e mettete like iscrivetevi al prossimo video ciao